pronto cavalliere muschita chi fa lo disturbato ci botto un cucetato ragionare l'attuca sogno si sono un ragioniere l'attuca a tartaruga quale tartaruga ma chi è sotto l'attuca un ragioniere un pompiere cavalliere io sogno un ragioniere eh t'ha capito oh finalmente chi fa lo disturbato ho pensato siccome mia moglie oggi se ne ha chiuso al paese no e parlando fra nuagri io sogno solo bello ninja e siccome c'è i quattro sicci che ho cattato stamattina e si sta giocando lei la pasta con le sicci ci piace con loro no adesso ora mi toccavo cavalliere sempre se non aveva impegno cavalliere che è impegnato lei ah è libero e allora perché non viene a trovarmi eh adesso che fa io nel frattempo li preparo e noi mangiamo bello in santa pace il vino il vino c'è chi porta il vino a mia casa chissà perché manca vino c'è il vino che ha vino dopo uno a pensare che l'autrionno mio figlio iachino c'è paruto coca cola e salvato uno dei bottiglioni no il disgraziato si addomiscivo fino al domani mattina certo sembri la cava e mi chiede certo mi cedito e chi ci vuole fare no lei non a buttare niente cavalliere a mettere su la panza e presenza lei non a buttare niente se quando male vuole buttare una cannola porta una cannola la crema senza crema non mi interessa va bene a poi un'altra cosa cavalliere c'è il bello femmino si è bella niente lo sapete che deve essere tutta niente la presenta che no? si buttare sale in dubbio se si mette avanti alla televisione si tanto siamo sui e infine è proprio stato l'avvocato l'avvocato proprio stato chi diceva se l'ha visto con cignere non so io era un muccio no? adesso sono dei specifimi pornografiche quando ne mangiare i sicci e poi non vedremo certo che si viena un anno ora tutt'anno ancora subito non vedremo non facciamo muta muta cavalliere allora che fa? aspetto va bene? avanti io stai preparando nel frattempo avanti arrivederla i cannoli, le cannoli sulle a buttare va bene ah finalmente oggi ne arriviamo qua con il cavalliere a me lo faccio quattro città magari no, e dove sono i sicci? l'ho messo in dalla finestra buttate caglino guardate che le atti si li si scazzate vado vado si mangiando i sicci e chi mi mangiare ora che mi andiamo a cavalliere? mia figlia ma questa maniera che stacca sopra di mia parola mia stiate ci mazzo, ci filano ce li rovino i sicci si ammocano bene frischi frischi ma non sta usando la carta io ora come faccio? come faccio? guardate che il telefono sta suonando un'altra volta pronto? oh cavalliere che cosa c'è? non può venere? come non può venere? e per chi non può venere? c'è un impegno e ora questi sicci che si mangia qua e mi posso mangiare quattro sicci sarà per un'altra volta e va bene, non so piacere va bene, non mi affanno arrivederla, devo chiudere prima che si brucia la ciputa arrivederla, arrivederla bastateate va ammazzo ora il mazzo viene il caldo, niente, il veleno mi picchi i frecci ha diventato peggiore sarame unica i frecci, ci faccio i frecci dell'ombrella bastate, i sicci frischi si mangiano e ne ammazzo io ne ammazzo i sicci si mangiano bastate, va ammazzo, unesiti bastate come? allora c'è un'altra volta, ora i sicci bastate, ma io va ammazzo, niente, va ammazzo c'è mila lira, c'è mila lira, c'è mila lira, c'è mila lira, va gustar va ammazzo bastateate basta, basta